L'ANAS in Sicilia ha consacrato e ufficializzato la propria incapacità, la propria inefficienza, un vero e proprio fallimento. Abbiamo atteso due anni e mezzo, ma se le opere pubbliche, se i cantieri rimangono fermi, se per tirare su il pilone del ponte Imera non bastano cinque anni, mentre a Genova in un anno il ponte Merandimor può essere ricostruito, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona. Noi non siamo più disposti ad accettare questo atteggiamento. Con l'assessore Falcone e con la Giunta abbiamo promosso un'azione legale. Il 15 di giugno formalizzeremo la richiesta di danni, danno d'immagine e danno economico. Nel momento in cui esiste l'asintomatico che è portatore di virus, la sicurezza al 100% non esiste in nessuna parte d'Italia. Inutile essere ipocriti. È chiaro che bisogna adottare ogni misura necessaria. Noi stiamo approntando un protocollo di sicurezza per i turisti perché in Sicilia possano, potenziando anche alcuni presidi, trascorrere l'estate in un clima di serenità e consentire alla nostra isola e ai nostri imprenditori una boccata d'ossigeno. Lo faremo a partire dai primi di giugno, lo faremo d'accordo con gli altri governatori e con il governo centrale. Il sindaco Sala quando vuole venire in Sicilia può farlo tranquillamente e liberamente. Non gli chiederemo alcuna patente, neppure quella dell'auto.